bentornati amici nel mio let's play adventure city chiama stiamo finendo i mini giochi vediamo un po è ancora da completare siete pronti quartier generale livello 1 giochiamo con roki allora ne dobbiamo raccogliere ben 150 oh no forza perfetto e il il e pozza pozza ruhi ne dobbiamo raccogliere 150 ok andiamo bene ok perfetto ce ne mancano 7 amici dove saranno abbiamo ancora un po' di secondi per cercarli qui no eccoli ce ne mancano 3 oh forse abbiamo finito è finito il tempo no abbiamo completato la missione perfetto continuiamo abbiamo sbloccato sky il cucciolo pilota i rocchi bene completiamo i livelli del quartier generale dei minigiochi raccogli di tutti giochiamo con chase ce ne è iniziamo abbiamo fatto degli ottimi salti ops rifacciamoli forza ok ce l'ho fatta sono caduta devo andare a recuperare quel biscottino niente non ce la faccio andiamo a prendere gli altri e allora usare l'ho fatta che usare l'ho fatta qui su un super salto bene ora dobbiamo salire forza Chase ritroviamoci no evidentemente non si sale da qui andiamo da qui sono caduta di nuovo forza forza perfetto ora di là forza che ne dite? quanti ne ho presi? sì ossetto d'oro per Chase ed eccoci pronti ad affrontare il livello 3 Zuma vuoi giocare? wow ne dobbiamo prendere 200 per cento 20 21 20 20 21 21 28 30 29 30 31 31 31 31 32 solo tantissimi e poi qui sembra un labirinto di tubi eccoci qua super salto o no bene bene salta giù bravissimo ok prendo anche quello guarda quanti qui prendiamoli tutti saltiamo ok ho visto devo andare laggiù sii ce l'ho fatta mi sa anche per zoom un rosetto d'oro bravo 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 che super salto bravo 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 ce ne mancano pochissimi dove saranno? i biscottini i biscottini deliziosi eccomi si bravissimo un ossetto d'oro anche per te ed eccoci pronti a giocare a livello 3 Marshall vuoi giocare? giocare a livello 3 a giocare a livello 4 sto a giocare a livello 4 Wow, che salti che fa Marshall Saltiamo Vediamo se ce la faccio salire Sì Anche qui ci vuole un super salto Forza, forza Super salto anche qui Ok, le ho visti da sotto Sì, bravo Marshall Anche per te un osetto d'oro Bene amici Abbiamo completato anche il livello 3 Ci manca la cittadina, il livello 2 e il livello 3 Che le dite? Lo finiamo? Skye, vuoi giocare? Molto bello Questa è che mi amenazza a volare Sì, saltare su le tende Oh oh, però ne mancate uno Non riesco più a tornare su Dai, dai, dai Skye No Il gioco Si blocca Ok, ce l'ho fatto Bene Ok, ce l'ho fatto amici Ok, ce l'ho ancora di biscotti Ok, e vado a salire lassù Aiuto, ne mancano ancora Andiamo a cercarli Ma io non ne vedo Ma io non ne vedo Voi li vedete? Sì, no Eccoli Ma è finito il tempo Vediamo un po' Dai Abbiamo preso una bella medaglia d'argento Skye Abbiamo sbloccato auto della polizia di Chase Bellissimo Allora Eccoci qui Eccoci qui all'ultimo livello Liberti Ui giupare 3, 2, 1 Oh no Di nuovo bloccata Come mi è successo con Skye Forza Chissà se succede perché loro sono un po' piccoline E non riescono a saltare Tanto in alto Chissà Ok Riproviamoci Si salta sull'ombrellone No, è bloccato Riproviamoci Ombrellone Tenda Bravissima Liberti Di nuovo Tenda Sì Mamma c'è ancora uno lassù Dai Sì Bravissima Chao Sì 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 C'è Ti sta finendo il tempo io non sono ancora a 200 vediamo un po' bravissima medaglietta d'oro anche per Liberty bene amici abbiamo completato anche tutti i livelli dei mini giochi raccoglili tutti ci vediamo alla prossima puntata dove finiremo le prove a tempo e ricordate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale ciao alla prossima ciao 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 ciao